Buongiorno, 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 prego, e poi il bacio, il bacio, ora va letta la frase, ovvio, quante sono le frasi che mettete? 300, 300, l'amore non distrugge, anzi ti rende perfetto, è molto parocce, con i tuoi baci, baci di ferritina, deliziosi cioccolatini, alla nocciola, per aspetto, a me è un infanzio dei tuoi, è un po' di buongiorno, grazie a voi, ciao ragazzi, volevamo subito, ciao, 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 ciao.